esporrò davanti al mio dio le vicende di quell'anno ventinovesimo della mia vita poco prima era giunto a cartagine un vescovo manicheo di nome fausto grande imbroglione del diavolo che catturava molta gente che rimaneva ammaliata dalla sua eloquenza e che anch'io elogiavo distinguendola però dalle verità delle cose che ero avido di conoscere badavo cioè non tanto al recipiente delle parole quanto piuttosto alla vivanda del sapere che il famoso fausto mi metteva davanti lo aveva preceduto la fama di uomo versatissime in tutte le nobili discipline ma particolarmente erudito nelle lettere io che ricordavo per averle lette e studiate le opere di molti filosofi confrontandone alcune con le favole prolisse dei manichei trovavo più credibili le teorie di quei filosofi che riuscirono a penetrare la natura delle cose senza però arrivare a conoscere il signore perché tu sei grande signore e volgi lo sguardo sugli umili mentre conosci da lontano i superbi e ti avvicini solo ai cuori contriti non ti riveli ai superbi neppure se con la loro abilità sanno contare le stelle e la sabbia del mare sanno misurare gli spazi celesti ed esplorare le vie degli astri investigando questi misteri con l'intelligenza e l'ingegno ricevuti da te essi fecero molte scoperte predissero con anticipo di molti anni le eclissi della luce del sole e della luna con il giorno l'ora e la misura in cui sarebbero avvenuti senza sbagliare nei calcoli i fenomeni si verificarono puntualmente secondo le loro predizioni ed essi misero per iscritto le leggi scoperte quelle leggi che si studiano tuttora per predire l'anno il mese dell'anno il giorno del mese l'ora del giorno e la misura in cui la luce del sole e della luna scomparirà e il fenomeno si verifica puntualmente secondo le loro predizioni il popolo ne ha ammirato gli ignari stupiti gli esperti inorgogliti ma se lontani ed eclissati dalla tua luce per la loro empia superbia prevedono con tanto anticipo il futuro oscuramento del sole non vedono però il loro presente poiché non ricercano con spirito religioso l'origine del proprio ingegno con cui eseguono queste ricerche o se si scoprono tue creature non si donano a te cos lancio affinché tu conservi le tue creature quasi fossero proprio essi i loro creatori non si annientano per te non abbattono come uccelli in volo le proprie vanità come pesci del mare le proprie curiosità che li spingono a percorrere i segreti sentieri degli abissi come bestie della terra le loro cieche passioni affinché tu dio fuoco divoratore distrugga i loro morti desideri e li ricrei ad una vita immortale non conoscono la tua via il tuo verbo con cui creasti ciò che essi calcolano il senso con cui percepiscono ciò che calcolano l'intelligenza per cui calcolano mentre la tua sapienza è incalcolabile invece il tuo unigenito si è fatto sapienza e giustizia e santificazione per noi volle essere il nostro numero e pagò il tributo a cesare non conoscono questa via su cui discenderebbero da se stessi a lui e per lui ascenderebbero a lui ignorano questa via e si credono eccelsi e luminosi come le stelle ed invece eccoli precipitati in terra col cuore ottenebrato e stolto dicono molte verità sul creato ma non cercano devotamente la verità autrice della creazione quindi non la trovano o se la trovano pur conoscendo dio non l'onorano e non lo ringraziano come dio ma vaneggiano nei loro pensieri si proclamano sapienti attribuendo a se stessi ciò che è tuo e cercano anche nella loro stolta follia di attribuire a te le loro prerogative trasferiscono le loro menzogne su di te che sei la verità trasformando la gloria di dio incorruttibile nell'immagine dell'uomo corruttibile e degli uccelli e dei quadrupedi e dei serpenti convertono la tua verità in menzogna e adorano e servono la creatura anziché il creatore comunque sono molte le verità che io conoscevo bene e che essi avevano dedotto dallo studio della natura me ne offrivano la prova razionale i calcoli la successione delle stagioni le testimonianze visibili degli astri e le confrontavo con le sentenze di mani che in proposito scrisse molto e follemente e non mi si offriva la prova razionale né dei solstizi ed equinozi né delle eclissi cialesti né degli altri fenomeni analoghi che avevo appreso dai testi della sapienza profana tuttavia mi si comandava di crederci anche se quell'insegnamento discordava dalle spiegazioni matematiche accertate dai miei stessi occhi anzi ne era lontanissimo o signore dio di verità è sufficiente la conoscenza di queste cose per essere accettato da te disgraziato chi conosce tutte quelle cose ma ignora te felice invece chi conosce te anche se ignora quelle chi poi conosce te e quelle non si può dire che sia più felice per la conoscenza di quelle ma è felice solo per il fatto di conoscere te se impara a glorificarti a ringraziarti a non perdersi nella vanità dei suoi pensieri infatti come è più saggio chi ti ringrazia per il possesso di un albero e dei suoi frutti anche se non sa quanto sia alto e quanto terreno ricopra di chi invece sta a misurarlo e a contarne i rami senza esserne il padrone e non ne conosce il creatore né lo ama così l'uomo di fede possessore di tutte le ricchezze del mondo che pur non avendo nulla possiede invece tutto se soltanto si avvicina a te anche se ignorasse i giri delle orse varrebbe molto di più senza dubbio di chi sta a misurare i cieli e sa contare le stelle e pesare gli elementi ma poi trascura te che hai stabilito tutte le cose nella loro misura e numero e peso insomma chi obbligava un certo mani a scrivere anche su cose che non occorre conoscere per imparare la pietà tu dicesti all'uomo ecco pietà è sapienza quindi egli poteva ignorare la pietà pur conoscendo alla prefezione le altre nozioni se non che avendo l'audacia sfrontatissima di insegnare queste ultime senza conoscerle tanto meno poteva conoscere la prima è vanità esibire la scienza mondana anche quando la si possiede e invece è pietà glorificartene perciò il suo molto parlare a sproposito su tali argomenti aveva questo fine che confutato da persone molto istruite in materia si rivelasse qual era la sua perspicacia in argomenti più astrusi e non volle essere ritenuto uomo di poco conto ma tentò persino di far credere che lo spirito santo consolazione e ricchezza dei tuoi fedeli risiedesse in lui di persona con tutta la sua autorità però quando veniva colto in errori evidenti nella sua teoria sul cielo le stelle e i movimenti del sole e della luna argomenti certo estranei all'insegnamento religioso ne risultavano chiari i suoi tentativi sacrileghi egli parlava di cose che non solo ignorava ma erano anche false con un orgoglio talmente folle che cercava di attribuirsele come se fosse una persona divina quando sento questo quel fratello cristiano che in materia è inesperto e ha idee sbagliate io valuto le sue opinioni pazientemente ne vedo come gli possa nuocere l'ignorare accidentalmente la posizione e la lotta di anticorporei creati da te purché non abbia opinioni sconvenienti su di te signore creatore di tutto gli nuoce invece il pensare che questa scienza faccia parte proprio dell'insegnamento religioso ed affermare con ostinazione quello che ignora però questa debolezza trova nella culla della fede il sostegno materno della carità finché l'uomo nuovo si elevi alla perfezione senza lasciarsi spingere di qua e di là dal vento di qualsiasi dottrina ma colui che si atteggiava maestro guida e capo di discepoli pretendeva anche che i suoi seguaci credessero di trovarsi alla scuola non di un uomo qualunque ma del tuo spirito santo follia ingiustificata che chiunque avrebbe dovuto rifiutare e gettar via io peraltro non avevo ancora compreso con chiarezza se la successione di giorni e notti ora più lunghe ora più brevi come delle notti stesse ai giorni l'oscuramento delle luci celesti e quanti fenomeni del genere avevo letto negli altri libri non si fosse potuto spiegarli anche secondo i suoi insegnamenti se si fosse potuto pur rimanendo incerto naturalmente su come stessero veramente le cose per conservare la mia fede avrei anteposto la sua autorità a causa della fama di santo che lo circondava perciò durante i nove anni circa in cui la mia mente inquieta seguì la scuola dei manichei attesi con un forte desiderio l'arrivo di questo fausto tutti gli altri della sua setta con i quali per caso ero venuto in contatto alle obiezioni che muovevo su questa materia non sapevano rispondere se non con la promessa del suo arrivo al primo colloquio egli non avrebbe avuto la minima difficoltà a risolvere nel modo più chiaro questi e altri più intricati quesiti che gli avessi eventualmente proposto così quando arrivò feci la conoscenza di una persona amabile un parlatore piacevole capace di esporre le stesse cose dette da altri in forma molto più accattivante ma a che servivano alla mia sete le tazze preziose di quell'elegantissimo coppiere di simili discorsi le mie orecchie erano già sature non mi apparivano migliori per essere detti in modo migliore o più veri perché e detti in modo eloquente né mi appariva saggia alla sua mente perché il suo aspetto era gradevole ed elegante il suo eloquio quanto a coloro che me ne promettevano meraviglie non erano buoni giudici lo ritenevano accorto e saggio perché li deliziava con le sue parole d'altra parte ho conosciuto una diversa specie di persone che sospettavano addirittura della verità e si rifiutavano di ritenersene soddisfatti se gli veniva porta con grandi ed eleganti giri di parole ma tu mio dio mi avevi già istruito mirabilmente e credo che fosti tu a distruirmi perché si tratta della verità e fuori di te nessun altro è maestro di verità ovunque e in qualunque luogo ci sia l'eco della sua fama avevo già imparato da te dunque che un argomento esposto non deve sembrare vero perché è esposto eloquentemente né deve sembrare falso perché le parole escono confuse dalla bocca ma neppure vero al contrario perché espresso rozzamente o falso perché espresso in modo forbito della sapienza e della stoltezza è come per i cibi utili e nocivi possono essere servite con parole eleganti o disadorne come entrambi quei cibi possono essere serviti con piatti civili o rozzi l'avidità con cui avevo aspettato per tanto tempo il personaggio era resa più intensa dal suo modo di parlare dalla proprietà delle frasi che sapevano dar suono così bene ai suoi pensieri ero dunque soddisfatto e come molti altri o anche più di molti altri lo elogiavo e lo esaltavo ma ero dispiaciuto di non potergli sottoporre a causa della ressa degli ascoltatori le mie questioni e metterlo a parte dei miei dubbi conferendo con lui in un colloquio confidenziale ascoltando e rispondendo ai suoi argomenti quando infine me ne fu data l'occasione e con i miei amici riuscì ad avere la sua attenzione in onora adatta per una discussione amichevole esposi alcuni dubbi che mi turbavano ma mi trovai dinanzi ad un uomo che non conosceva le lettere se si esclude la grammatica in cui pure non era particolarmente versato aveva letto alcune orazioni tulliane pochissimi libri di seneca qualche volume di poesia e della sua setta alcuni libri scritti in un buon latino inoltre dall'esercizio dei discorsi tenuti tutti i giorni in pubblico gli derivava una facilità di parola resa ancor più gradita e seducente da una certa astuzia e da un certo garbo naturale è proprio così come sto narrando signore dio mio arbitro della mia coscienza il mio cuore e i miei ricordi sono davanti a te che a quel tempo mi muovevi secondo il disegno segreto della tua provvidenza e mostravi già davanti al mio volto i miei turpi errori perché li odiassi dopo essermi reso conto che fausto non aveva nessuna competenza nelle discipline in cui l'avevo immaginato eccellente cominciai a perdere la speranza di avere un suo aiuto per spiegare le questioni che mi tormentavano naturalmente avrebbe potuto essere sporveduto in quel campo e possedere invece una vera pietà a condizione di non essere un manicheo i libri manichei rigurgitano di interminabili favole sul cielo le stelle il sole la luna e io desideravo appunto questo che dimostrasse intelligentemente dopo averle confrontate con le spiegazioni matematiche che avevo letto su altri libri come la spiegazione offerta dai testi di mani fosse migliore o almeno pari gli sottoposi quindi le questioni affinché le considerasse e le discutesse egli con innegabile modestia e cautela si rifiutò di addossarsi un simile peso conscio della propria ignoranza in materia non si vergognò di ammetterla era dunque ben diverso dai molti chiacchieroni che avevo dovuto sopportare e che avevano cercato di erudirmi senza dire nulla costui aveva un'intelligenza purtroppo non diretta verso di tema non incauta verso se stessa consapevole della propria inesperienza evitò di mettersi in trappola con una disputa pericolosa in una posizione senza uscite e di non facile fuga per lui anche questo atteggiamento me lo rese ancora più accetto la modestia di un animo che si apre è più bella della scienza che io cercavo e mi fece sempre questa impressione in tutte le questioni difficili e sottili con lui si dissolse l'interesse che avevo per le dottrine dei manichei fiducia ancora minore nutrivo verso gli altri loro maestri dopo che il più famoso mi si rivelò ignorante nelle molte questioni che mi tormentavano lo frequentai tuttavia a causa della passione che lo infiammava per la letteratura da me insegnata a quel tempo come retore ai giovani di cartagine leggevo in sua compagnia i testi di cui aveva udito parlare che desiderava conoscere oppure io stesso ritenevo adatti a un indole come la sua per il resto tutte le mie buone intenzioni di progredire in quella setta cessarono completamente dopo aver conosciuto quell'uomo benché non me ne allontanassi completamente non trovando nulla di meglio decisi di accontentarmi per il momento della posizione che avevo comunque raggiunto finché non mi apparisse una prospettiva migliore così quel famoso fausto che fu per molti un ingannatore mortale senza volerlo e senza saperlo aveva già cominciato a sciogliere il nodo in cui ero stato preso le tue mani dio mio nel segreto della tua provvidenza non abbandonavano la mia anima d'altra parte dal cuore sanguinante di mia madre ti si offriva per me notte e giorno il sacrificio delle sue lacrime operasti verso di me mirabilmente fu azione tua dio mio perché i passi dell'uomo sono guidati dal signore ed egli ne sceglierà la via chi ci salverà se non la tua mano che ricrea la tua creazione